Un ciao a tutti voi da Rosi, appuntamento della nostra vetrina dell'auto oggi con Claudia. Ciao Claudia. Ciao Rosi, benvenuta, benvenuti tutti voi in Iperauto. Ci possiamo levare le mascherine in quanto la distanza di sicurezza c'è abbondantemente. Oggi siamo presso il nostro Ford Store di Bloomberg a Bergamo in via Cesare Correnti numero 23, in una delle tante nostre filiali perché per auto oltre ad essere un concessionario Ford presente in più province lombarde è anche il concessionario Kia che la troverete nella provincia di Pavia, Mazda, Lecco e Sondrio, Volvo per la provincia di Sondrio, inoltre ci troverete come marchio Maserati a Como e a Bergamo e Porsche nella provincia di Piacenza. Claudia, quanti marchi e quante proposte? Hai ragione Rosi, per questo vi invito a visionare il nostro sito che trovate in sovraimpressione www.iperauto.it dove potrete tranquillamente cercare e trovare il punto vendita più vicino a casa vostra. Ora vi presentiamo la nostra city car, la Fiesta, che si distingue in vari tipi di allestimenti, Fiesta Connect, Fiesta Active, sportiva come la ST-Line o d'Elegante come questa bellissima Ford Fiesta Titanium, dotata di serie di climatizzatore automatico, fare di urne a LED, sensore di parcheggio posteriore, schermo touch da 8 pollici con Apple CarPlay ed Android Auto integrati. Questo mese la Fiesta è in promozione con vantaggi molto interessanti, venite a scoprirli tutti in concessionaria. Questa è la nostra ultima arrivata in casa Ford Puma, nostro crossover lungo 4,20 m, disponibile sia nelle classiche motorizzazioni benzina e diesel, sia nella nuovissima ibrida da 125 cavalli con consumi da record. Questa che abbiamo qui ora è la versione ST-Line, che ha di serie cerchi in lega da 17 pollici, vetri oscurati, fari a LED. Questa vettura è la prima Ford che oltre allo schermo da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, ha un cruscotto totalmente digitale da 12,3 pollici. Claudia, ma non penserai mica seriamente di poter mettere tutte queste valigie dentro questa splendida Puma? Rosy, sembra impossibile, ma adesso ti faremo vedere come tutte queste valigie entrino comodamente nel bagagliaio, senza tra l'altro limitare la visibilità dell'unotto posteriore. Va bene Claudia, mi hai convinto, possiamo partire. Perfetto, ma non è tutto. Questa macchina può essere tua con un costo di guida giornaliero a partire da 9 euro tutto incluso. Ma come? In che modo? Grazie a EasyDrive. Iperauto ha creato e consolidato nel corso degli ultimi anni un sistema di acquisto chiamato per appunto EasyDrive, dove non solo include 7 anni di garanzia, ma anche tutta la manutenzione ordinaria che comunque i clienti andrebbero a sostenere nel corso degli anni successivi all'acquisto. Ovviamente questi sono soltanto alcuni dei servizi inclusi all'interno del pacchetto EasyDrive, pertanto vi invitiamo a scoprirli dettagliatamente presso i nostri saloni. Iperauto è un punto di riferimento anche per chi utilizza il proprio mezzo per il lavoro, vero Andrea? Sì, ciao Rosy. Ciao. Benvenuta nel nostro Transit Center Blue Berg del gruppo Iperauto SPA, che si trova a Bergamo in via Cesare Correnti 23. Trovate i nostri riferimenti agli indirizzi in sovrimpressione oppure potete contattarci all'indirizzo www.iperauto.it. Devi sapere, Rosy, che noi siamo stati il primo concessionario in Italia a vantare un'officina completamente dedicata ai veicoli commerciali. Questo ci dà una grande responsabilità, perché Ford ha la gamma di veicoli commerciali più completa del mercato, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti e l'assistenza post vendita è di vitale importanza, come tu ben sai, per chi lavora con il veicolo e deve avere un fermo macchina ridottissimo. Ora ci siamo trasferiti nel nostro salone esposizione. Troviamo qui a fianco il Transit Custom, uno dei veicoli più venduti in assoluto, non solo da noi ma anche in Italia, con la possibilità di averlo passo corto e passo lungo, con due tetti, veicolo ideale per qualsiasi esigenza lavorativa. Oggi lo possiamo proporre anche nell'allestimento plug-in hybrid, assoluta novità nel mercato, con impatto ambientale zero. Il Custom esiste anche in un'altra versione ibrida più leggera, che si chiama Mald Hybrid, e questo dimostra l'attenzione della Ford verso l'ambiente. Qui a fianco troviamo il Tourneo Custom. Il Tourneo Custom è un derivato a livello di motorizzazione di pianale dal nostro furgone, ma come potete vedere è a tutti gli effetti una vettura, in quanto otto posti, con o senza interni in pelle, con finiture da vera automobile di lusso. Ed ora vi presento il Transit, con le sue infinite possibilità di combinazioni e di allestimenti, che io e i miei colleghi saremo lieti di presentarvi, presso la nostra sede Iperauto, all'indirizzo che trovate in sovraimpressione, oppure presso le vostre sedi, qualora voi foste impossibilitati a venire a trovarci. E infine la chicca finale, il Raptor, che prende le caratteristiche basilari dal Ranger, ma con una personalizzazione, uno stile più aggressivo, con la motorizzazione 2.213 cavalli, cambio automatico 10 rapporti, Pick-up of the Year 2020. Vi aspettiamo per provare anche questa meraviglia. Ed ora in compagnia di Andrea, andiamo a vedere dove ci siamo trasferiti. Ciao Andrea! Ciao Rosi, benvenuti a tutti, benvenuti qui al centro dell'usato Iperauto, ci troviamo a Bergamo, in via Cesare Correnti, al numero 33. Qui trovate autovetture di tutti i prezzi, di tutte le tasche, abbiamo diversificato il nostro salone, con prezzi da 5.000 euro, 10.000 euro, fino a 15.000 euro. Andrea, mi sembra molto interessante questa suddivisione, state vedendo, se voi avete in testa un budget particolare, arrivate qui, avete già le vetture suddivise per prezzi, quindi fino a 5, fino a 10, fino a 15, mi sembra molto molto interessante per voi. Ed ora dove ci troviamo Andrea? Qui Rosi ci troviamo in un bel angolo, troviamo il reparto Luxury. Qui vediamo una bellissima Range Rover Sport, in versione 3.306 cavalli, colore nero, interni in pelle, totale, sedili elettrici, sedili traforati, riscaldabili e rinfrescati, navigatore, cambio automatico. Per poi passare a un'elegantissima BMW 730, di colore nero, con sensori parcheggio davanti e dietro, telecamere a 360 gradi, fari full LED e un bellissimo interno di colore a contrasto. Ed ora passiamo a un bellissimo esemplare di Mercedes classe C, a Hengue Cabrio 43, 367 cavalli di potenza, con cerchi in lega da 19, sensori parcheggio avanti e dietro e un bellissimo interno in pelle Cartier con capote elettrica. Andrea, ma all'interno vedo che c'è anche qualcuno, cioè Claudia. Eh sì, c'è la nostra Claudia. Che ci presenterà adesso delle splendide occasioni a chilometri zero. Eccoci, ci troviamo nel reparto chilometri zero e aziendali. Come potete vedere, qua abbiamo alcune delle nostre chilometri zero, tra cui Fiesta, Ecosport e Kuga, in vari colori, allestimenti e motorizzazioni. Visto che per auto e concessionario Kia Pavia, troverete anche vetture di questo marchio a chilometri zero. Non vi resta che venirci a trovare nella sede più comoda a voi. Vi aspettiamo! Oggi vi presento questa bellissima Giulietta 1.4 Turbo Twin Air, 170 cavalli nell'allestimento sprint, cambio automatico, cerchi in lega da 17, con un interno veramente meraviglioso in Alcantara. Climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, ad un prezzo particolarissimo di 15.900 euro. Ora passo la parola a Claudia, che vi farà vedere un'occasione irripetibile. Ma eccoci arrivati alla vera offerta di questo mese, la Ford Age. Pensate che un chilometro zero, abbiamo soltanto pochissimi pezzi disponibili, si parte da un prezzo di listino di 62.000 euro, solo per questo mese, ribadisco più di 20.000 euro di sconto, riuscite a portarla a casa con solo i 41.000 euro. Questa vettura è full optional, dotata di cambio automatico 8 rapporti, tetto panoramico in vetro apribile elettronicamente, pelle totale, cerchi in lega da 20 pollici, sedili riscaldati, impianto B&O con subwoofer e trazione integrale 4x4. Qui siamo nel reparto fino a 5.000 euro e vi propongo questa bellissima iX20 a 4.900 euro, adatta anche a neopatentati. Vi ricordo che tutte le nostre autovetture sono certificate e garantite per 12 mesi. Sportivi, questa è una bellissima occasione per voi, una bellissima Fiat 595 da 160 cavalli, anno 2019, 10.000 chilometri. La proponiamo al prezzo di 18.500 euro, è una macchina strepitosa full optional, con cerchi in lega da 17, tutto il kit estetico Abarth, tetto apribile, interni sportivi. Per passare poi a una spettacolare e nuovissima Audi A1, 1.000 di cilindrata, 116 cavalli, con cambio DSG, cerchi in lega da 17, anno del 2020, con soli 2.700 chilometri. Sensori parcheggio davanti e dietro, retrocamera, interni veramente come nuovi, per non dire nuovi, touchscreen, ad un prezzo di 27.500 euro. Famiglie numerose, non fatevi scappare questa meravigliosa occasione. Ford Custom versione Sport, 170 cavalli, 170 cavalli, con cambio manuale, 8 posti, interni mista pelle, sensori parcheggio davanti e dietro, cerchi in lega, climatizzatore, sedili della seconda e terza fila, con la possibilità di fare salotto. Motorizzazione, l'abbiamo detta, 2.000 da 170 cavalli, con soli 19.000 chilometri, dell'anno 2019, al prezzo di 28.900 euro. Eccoci qui, tra due meravigliose Volvo, tutte e due di colore nero, tutte e due del 2017. In questo caso specifico, abbiamo una R-Design, veramente qualcosa al top di gamma, un motore da 235 cavalli, cerchi del 20, interni in pelle, volante in pelle, navigatore, sensori parcheggio davanti e dietro, retrocamera. Questa autovettura ha percorso solo 50.000 chilometri e ve la proponiamo a 36.900 euro. Vi ricordiamo che siamo concessionari Volvo a Berbenno di Valtellina. E che dire di questa bellissima X4? 2016-84.000 chilometri, con motore da 190 cavalli, cerchi in lega da 19, sensori parcheggio avanti e dietro, un interno in pelle a contrasto di colore chiaro, con navigatore, cambio automatico, e tantissimi altri accessori. Qui vi propongo una bellissima Mercedes classe B200 dell'anno 2019, con soli 29.000 chilometri all'attivo, macchina in tonsa, al prezzo eccezionale di 21.900 euro. Come allestimento vediamo fari diurni a LED, sensori parcheggio avanti e retro, cerchi in lega da 17, navigatore, bracciolo, volante in pelle con comandi della radio al volante, vetri scuri posteriori. E che dire di questo bellissimo esemplare di Galaxy 7 posti? Anno 2017, con all'attivo 60.000 chilometri. Abbiamo di serie, sensori, parcheggio davanti e dietro, telecamera posteriore, cerchi in lega da 17, interni in pelle con memorie, navigatore, satellitare, cambio automatico, portellone elettrico, macchina con 7 anni di garanzia, o 140.000 chilometri, completamente tagliandata e seguita dalla nostra officina. Al prezzo di 21.000 euro, vi ricordo che tutte le nostre autovetture sono igienizzate, e potete venire a trovarci in tutta sicurezza. Eccoci qua su una bellissima Toyota C-HRV Hybrid dell'anno 2017, con soli 38.000 chilometri, signori. È impossibile trovarla d'occasione. A soli 19.900 euro trovate qualcosa di tecnologico. Motore innovativo, retrocamera, un interno blu cobalto bellissimo, un touchscreen enorme, veramente qualcosa di eccezionale. Qui abbiamo una bellissima Renault Captur dell'anno 2018, all'attivo solo 10.500 chilometri. Macchina intonsa, meglio del nuovo. Cambio automatico, 90 cavalli, 1.500 diesel, con sensori parcheggio davanti e dietro, retrocamera, bracciolo, volante in pelle con comandi della radio al volante, navigatore, e climatizzatore automatico, in una tonalità bicolore. Qui arriviamo su una bella chicca per giovani, che è una bellissima Polo R-Line, praticamente introvabile, con dei cerchi tuning. Abbiamo sensori parcheggio davanti e dietro, 38.000 chilometri, signori, ad un prezzo di 12.900 euro. Siamo arrivati al termine della trasmissione, vi aspettiamo numerosi, un saluto da Claudia e da Andrea.